Perfetto, come vedete qui sono nel bagno, ecco con James E ecco, come vedete, qui per terra c'è la gemma blu, quella che ci serve per il finale UFO Per ottenere questa gemma, quindi per renderla disponibile su questa area Ci basta finire il gioco almeno una volta con James e completare, di conseguenza, anche il scenario Diciamo il sub-scenario, ecco scusate, con Maria, quindi Born from a Wish Una volta finiti questi due, ci basta cominciare una nuova partita e troveremo la gemma qui Quindi la raccolgo subito, ecco, una gemma azzurra Esaminiamo Ecco, praticamente, vabbè, non si può esaminare, ma dice appunto che può usarla da qualche parte Beh, vediamo allora dove sono questi punti in cui bisogna utilizzare la gemma per ottenere il finale UFO James 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione! Grazie per la visione!